inizia a stampare euro per tutti quanti perché credo che anche la Germania abbia un problema o se no l'Europa non ha più senso di esistere perché non possiamo essere condizionati dai paesi nordici assolutamente perché loro con i paesi del sud hanno sempre avuto un problema ci hanno preso molti più soldi l'Europa ha preso molti più soldi al nord che non al sud in questo momento l'Europa può esistere solo e soltanto se tutti assieme si aiutano tutti i paesi l'Europa deve fare inflazione, deve stampare euro gli euro devono arrivare in Italia in Italia dobbiamo fare debito dobbiamo dare i soldi alle aziende che mantengono i posti di lavoro perché se non abbiamo i posti di lavoro succede una rivoluzione noi dobbiamo garantire agli italiani che hanno il posto di lavoro e le aziende per garantire il posto di lavoro devono avere cassa subito il nostro Presidente del Consiglio deve capire che subito le aziende nostre devono avere cassa per poter garantire l'esistenza dell'azienda per poter garantire i posti di lavoro adesso diamo un po' di tranquillità gli italiani che hanno il posto di lavoro ecco